Io e Paco abbiamo deciso di togliervi un peso. Quale peso? Ci vogliamo sposare. In che senso? Come in che senso? Guardi, non fai niente! Cosa ti faccio? Sto prendendo! Per due minuti è bello! In che senso? Allora, noi andiamo sul matrimonio, un popo ristorante, e ce l'hanno a busto. Vedi la chiesa? Ce l'hanno a busto. Ramma a bomboniera? Ce l'hanno a busto. Ve ne sono le busto! Ragazzi, ma vi volete sposare di questi temi? Ma è stato un po' la capa! Con questo periodo di Covid, ma i soldi chi vi dà? Allora, i soldi ci li dà Karate Kid, il fratello di Paco. Mio fratello! Oh! Sto prendendo! Ma è stato un po' proprio così. Karate Kid, mio fratello, però noi abbiamo deciso di fare, a parte un matrimonio Covid-free, no? E poi dopo vogliamo risparmiare sulle cose, infatti... Ah, come si chiama? Ah, l'Ave Maria, l'Hinda ha chiesto? A cantri? Ma tu sei un po'? Eh papà! Mi ha scompiato! Mi faccio prendere! Ma il problema non è che ti vede, il problema è che ti senta! Eh, vabbè papà, noi già ci siamo organizzati. Adesso vado a dirglielo a mamma. Senti, pensici a papà, non mi faccio scimitare, ti voglio bene... Vaglio! Eh, eh, non mi prendi! Eh, vaglio! Vaglio! Ma più strada! Mi piace, ragazzi! Eh, cadini dopo, dici un po' dici, torno fra cinque minuti. Eh no, eh! Non fa niente! C'è la pazienza maestra! Eh, che mi fa? Allora, cardinale, allora... Assi il tuo! Eh, eh! Eh, eh! Buonga partefico, io lo so che voi avete paura del covid, perché pure mi metto paura del covid, però facciamo un matrimonio alternativo, perché il covid non sarà il problema! Ma... Allora, vi spiegherò un po' che volete sapere? No! Sì! Allora, vi spiego tutto. Allora, ascoltatemi bene! La chiesa, invece, fa... o battesima benedizione con... con l'acqua santa o facciamo? Con la mucina! Esatto! Eh! 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 Eh, quindi facciamo con la mucina! Poi, come un bomboniero, Invece il solito cavallo e bronzeri c'è metra! Cavallo e bronzeri c'è metra! È solito! La cazzo tu, forse... Eh! Eh! Scusatemi! Ma voi mai che non facciamo a fare... Eh! 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 No, 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 le facciamo prima, perché quando arrivano i risultati, in base ai risultati metti i malcentri di tavola. Ah, capito, faccio capito, faccio la zona vaccinata, la zona positiva, la zona renegativa. Bravo, voi in quale zona volete rimanere? In una zona proprio.